salve a tutti ragazzi sono sempre il vostro vincenzman e quest'oggi ragazzi siamo su hunt royal ragazzi direi di andare nuova battaglia contro i mostri e andiamo benissimo i mostri sono già la ragazzi oggi cosa vogliamo fare un po attacchiamo qua raga attacchiamo qua grande ok una è stata già sconfitta ma raga me la sto cavando me la sto cavando molto le spuntano ok un golem grazie troppi golem una medusa cazzo no raga 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 no raga